il 2021 è stato un anno importantissimo per i monoscan che li ha visti assoluti i protagonisti della scena musicale mondiale ora arriva l'ennesimo riconoscimento sono i nomination ai brit award i premi della musica britannica la cerimonia di consegna è programmata per l'otto febbraio del 2022 allo 02 arena di londra i monoscan hanno ricevuto una doppia candidatura gruppo internazionale dell'anno e canzone internazionale dell'anno con il brano i wanna be your slave che è stata inserita dalla bbc tra i dieci brani migliori del 2021 il successo di questa canzone ha contribuito a portare l'ultimo album dei monoscan teatro dira volume 1 a superare il traguardo di un miliardo di ascolti in streaming